Domenica 1 gennaio alle 18.30 torna il concerto di Capodanno della Nuova Orchestra Scarlatti al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, inserito fra gli eventi di Natale a Napoli. Una festa musicale brillante tra Vienna e l'America, passando per Napoli e Parigi, con l'inesauribile verve di Rossini, l'eleganza salottiera di Johann Strauss, la nostalgia affettuosa di Nino Rota e poi Cimarosa, Verdi, Bernstein, Morricone, Offenbach e l'immancabile marcia di Radeschi di Johann Strauss, padre. È un programma che prevede, diciamo, lo star bene, il pubblico starà benissimo, come vorrebbe stare nell'anno che sta per arrivare. Noi siamo convinti che non parteciperà soltanto con le mani, vedremo cosa avverrà durante le esecuzioni. Per informazioni sul concerto www.nuovaorchestrascarlatti.it